lei comunque da quello che indossa da quello che indossa mi sembra chiaro signor brasiliano che lei odia la povertà non sopporta la povertà diciamo purtroppo ci stanno pure i poveri purtroppo ci stanno i poveri per forza aiutarli sono i poveri sono i cazzi di loro io che devo fare? si ho capito però io non ci vorrei mai diventare è una cosa un po' dispregiativa io mi impicchererei se diventassi povero che devo fare? tu te ce vedi povero di male? ma nessuno di noi vuole essere poveri tu non andresti alla Caritas a che fa? a bruciarla? la Caritas non diciamo cazzato però la Caritas è un'istruzione benemerita che dà da mangiare ai poveri il messaggio è che non tutte le persone